La mostra interconezione per la Villa delle Rosa è stata concevuta per Cecilia Aghida e dopo cocurata con Cecilia e Lorenzo Valvi. Questa mostra prende qualche lavoro negli ultimi 30 anni e in certa forma io sono d'accordo con la scelta che Cecilia e Lorenzo hanno fatto e è stato coproduito con l'Artium di Vittoria e anche il catalogo con Quarrani è stato coprodotto insieme. Credo che dopo tanti anni di lavorare in Italia alla UAP 15 anni ogni ottobre, novembre e dicembre per me è stato importante poter dimostrare questo lavoro che dopo certi anni non ho mai visto in Italia. Interconnessioni a Villa delle Rosa e a Bologna è stata la prima mostra dedicata alla ricerca di Antonio Montadas in un'istituzione museale italiana. Il titolo faceva riferimento a una frase dello storico dell'arte Marco Igli che definisce l'artista come una città piuttosto che una persona, una rete di spazi di scambio che opera per lunghi periodi piuttosto che un individuo. Quando ho letto questa frase mi ha particolarmente colpita perché evidenzia in poche battute il carattere di viaggiatore, nomade e di networker instancabile che caratterizza Montadas nell'arco della sua lunga e intensa carriera. Tra l'altro ho letto questa frase dal catalogo che abbiamo pubblicato in occasione della mostra con Corraini Editore, che è la prima pubblicazione in lingua italiana dedicata alla ricerca di Montadas. È pubblicato grazie alla collaborazione tra Il Mambo, Villa delle Rose e Arteum, il centro d'arte contemporanea del Paese Basco a Vittoria, che è stato il partner del nostro progetto espositivo. Ecco, la mostra che ho curato con Lorenzo Balbi, il direttore artistico del Mambo, in stretta collaborazione con l'artista, è stata pensata specificamente per gli ambienti della Villa delle Rose. Quindi considerando lo spazio e la storia della villa, abbiamo certo lavorato a una mostra retrospettiva, ma a una mostra survey, così come la definita Montadas, ovvero una mostra che presentasse un'analisi trasversale del lavoro dell'artista dagli anni 70 ad oggi, cercando di presentare nuovi campi di significato e di stabilire inedite relazioni tra i temi ricorrenti all'interno della sua lunga ricerca da sempre interdisciplinare, e quindi i temi della globalizzazione, del capitalismo transnazionale, delle relazioni tra spazio pubblico e spazio privato, dei rapporti tra monumento e memoria, il concetto del dispositivo, i processi della traduzione, l'interrogazione dell'archivio, i procedimenti che manipolano la comunicazione e l'informazione nella nostra società sempre più dominata dallo spettacolo dei mass media. La selezione delle opere si è concentrata in particolare su quei progetti, su quei lavori, che mostrano la sensibilità che Montadas ha sempre avuto verso la creazione di reti. Reti di collaboratori, collaboratori, reti di informatori, di corrispondenti, un'attenzione sempre molto forte verso le relazioni negli spazi sociali, che lì anche valsa la definizione di artista enzimatico nel metabolismo della cultura, oltre che di pioniere della media art nell'ambito dell'arte concettuale. La mostra si apriva con la celebre frase di Montadas, lo slogan che avevamo letto sulla facciata del paniglione spagnolo alla Biennale di Venezia del 2005, ovvero «Attenzione, la percezione richiede impegno», che accoglieva il pubblico stimolandolo proprio a riflettere intorno a una domanda importante e fondamentale, ovvero a che cosa serve l'arte se non a generare pensiero critico. A Montadaso non piace che i suoi lavori vengano definiti opere, preferisce che vengano definiti artefatti artistici, che è il pubblico ad attivare, sia che abbiano la forma di fotografie, di progetti, o di video installazioni, o di progetti online, qualsiasi essa sia, però opere, lavori da attivare attraverso un impegno interpretativo, e non attraverso la contemplazione, attraverso un pensiero critico, un atteggiamento critico soggettivo. Lui si parla di soggettività critica. In occasione della mostra ha fatto una proposta alla città, un lavoro dal titolo «On Translation, i piedistalli», ovvero ha lavorato sul gruppo di busti, chiamati il Pantheon degli Uomini Illustri, che è ritornato all'attenzione pubblica della città recentemente, attraverso una proposta volta a ricollocare non tanto i busti quanto i loro piedistalli nel parco della Montagnola, dove storicamente erano disposti. In ultimo ci tengo a dire che la mostra aveva una appendice nella biblioteca Federico Zeri al Dams di Bologna, quindi creava una interconnessione nella città con l'università attraverso l'allestimento di una reading room che presentava materiali di documentazione di natura cartacea e audiovisiva legati a tre progetti tra i più recenti sviluppati dell'artista, Asian Protocols, About Academia e La Costruzione del Miedo, che mostravano a studenti e a docenti il metodo di ricerca dell'artista, il cosiddetto metodo Muntadas.